La Barbie delle polemiche. In Messico non si potrebbe vendere la celebre bambola Mattel ispirata a Frida Kahlo, l'artista e pittrice che del paese è proprio l'icona. Gli eredi della Kahlo hanno ottenuto la confisca degli stock che erano già esposti nei negozi di giocattoli a Città del Messico e ora hanno intenzione di ricorrere anche presso la giustizia statunitense. Se avessero voluto fare un omaggio a Frida avrebbero dovuto ritrarla in maniera più veritiera, con le sue imperfezioni fisiche, il volto segnato dalle cure, la gamba più corta dell'altra. Non hanno usato nemmeno gli abiti tipici e i gioielli messicani, che mia zia tanto adorava, aveva criticato nei mesi scorsi Mara Cristina Teresa Romero Pineda, nipote di secondo grado dell'artista, come riportava il New York Times. La bambola avrebbe dovuto essere molto p messicana, ha detto ancora Romero, con un colore di pelle p scuro, il mono sopracciglio e meno magra, perciò Frida non era cos, si legge sull'Independent. Dopo mesi di polemiche, la decisione finale è stata presa venerdì 20 aprile da un giudice del Tribunale Superiore di Giustizia di Città del Messico. Il blocco delle vendite è una misura precauzionale che ha valenza soltanto per il territorio messicano, spiegano i giornali locali. Secondo l'alto magistrato, infatti, la famiglia l'unica titolare dei diritti di immagine di Frida, una delle artiste latino-americane più importanti del XX secolo. A fare causa a Mattela era stata appunto l'ereditiera universale di Calo, Mara Cristina Teresa Romero Pineda, dopo il lancio della linea dedicata alle Inspiring Women in occasione della Festa della Donna, l'8 marzo scorso. La sentenza sostiene che né Mattela né Frida Calo Corporation, e né altre aziende, possono commercializzare la bambola. Diversa la posizione dei produttori di giocattoli, che hanno ideato il giocattolo collaborando con la Frida Calo Corporation, gestita da un'altra pronipote, Isolda Pinedo Calo. Mattela aveva lanciato una linea di 14 bambole ispirate a donne celebri, che hanno con la loro vita e il loro lavoro segnato la storia, dalla pilota Amelia Earhart alla capitana della Juventus sede della Nazionale Italiana di Calcio Sara Gama, dalla regista Patty Jenkins appunto alla pittrice messicana Calo, vissuta dal 1907 al 1954.